Ma figurati, ma non ti preoccupare assolutamente, se non puoi non puoi, dai guarda dire che usciremo un'altra sera, non mancherà occasione vedrai, d'accordo? Va bene ti saluto ciao, ciao sì Peccato, questa sera non mi andava proprio di rimanere da solo Dottore, questa è la lista dei porfidi da imballaggio che mi aveva chiesto Grazie Poi, se non c'è nient'altro da fare io avrei finito Andrei Sì sì sì, vada vada È un momento, si viene a squarciolupi Mi scusi ma mi stavo chiedendo di con lei non ha mai pensato di togliersi gli occhiali E di sciogliersi i capelli Mi scusi, è che ho lavorato molto intensamente quest'oggi e non so cosa mi si è preso Mi scusi, può andare adesso, i suoi occhiali ecco, vada, vada pure Vada Vada Vada